Grazie mille, abbiamo dovuto sviluppare un po' perciò che stavamo rubato. Vediamo se è qua sotto, come volevo prima. No. A posto, non è qua. I attacchi sono automatici. Perfetto. Ah si l'ho vista adesso Siamo l'altra volta Sì Oh no, 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 no. Oh No, qua, 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 qua Aspetta, andiamo giù, abbiamo chiuso il livello Marco? E' sopra di Mary Salta Jamal Sia Ma è la speedrun No Ma che ne sto guardando? Ah, aspetta Ho sputato Ah, ecco Benvenuto alla zona di Boboli, preparati! Benvenuto alla zona di Boboli, preparati! Oh, fine Nooo Che bello Ma come fosse ieri, come fosse ieri, oh Gesù Minchia, beh, platform Platform Platform? Che c***o è il platform? Eh Via! Ha il gettone per il tempo, vaffan Subito Ebbene Ebbene Non l'ho visto, non l'ho visto quella arrivare per niente Che belle se sfide! Subito! Ebbene Eh vabbè, a due vite sono niente però No Orso Ebbene Ah che cazzo Marco, dobbiamo fare 35 secondi Ormai una sfida contro noi stessi No, niente No, 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 ma che cazzo Vai, 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 ce la fai, ce la fai Eh, ciao No, vabbè, che cazzo sta ballando Il fiore che dice di buttarsi dentro Ma che succede, mi sono cagato addosso Che? Marco Che cazzo è il mio Oh, paurissima È il livello più vero della mia vita Abbassatemi, ok A vero No, vabbè Oh, paurissima, che bello No, sei caduto No, vabbè Yeah No, vabbè No, vabbè No, vabbè